buongiorno a tutti in questo video vedremo alcune semplici formule per calcolare la resistenza equivalente di due o più resistenze comunque collegate anzi per meglio dire per adesso vedremo in questo video solo i casi più semplici quindi serie e parallelo raccomando come sempre ai miei alunni di guardare il filmato qualche giorno prima o al massimo il pomeriggio prima della lezione allora passiamo al calcolo della resistenza equivalente vista da due punti a e b infatti quando noi vogliamo calcolare la resistenza equivalente di un certo circuito di una parte di circuito dobbiamo sempre far riferimento a due punti a e b quindi qua io ho disegnato un circuito qualsiasi se io voglio calcolare la resistenza equivalente vista da questi due punti a e b come ho già detto in un altro filmato bisogna immaginare come se qua come se ci fosse un generatore collegato fra i punti a e b e quindi la resistenza equivalente fra a e b non è altro che la resistenza incontrata dalla corrente erogata da questo generatore per cui se noi sappiamo come calcolare la resistenza equivalente vista da a e b alla fine il circuito diventa questo cioè a dire qua possiamo ridisegnare il generatore ecco qui se noi abbiamo fatto bene i calcoli quest'unica resistenza è equivalente a tutte queste ossia il generatore il generatore quest'unica resistenza qui è equivalente a tutte queste qui ossia il generatore non si accorge della differenza fra il primo caso e il secondo caso per lui è sempre la stessa cosa lui erogherà sempre la stessa corrente detto questo passiamo allora al caso di tre resistenze in serie è abbastanza banale vedere che queste tre resistenze sono in serie qua abbiamo la corrente che pur assumendo diversi nomi i i uno i due i tre eccetera come si può capire comunque sempre la stessa identica corrente questa è la tensione fra i due punti a e b mentre queste sono le tre tensioni sulle singole resistenze bene possiamo scrivere per inciso ovvie via b chiaramente tutta questa tensione che avremmo potuto chiamare semplicemente b la r equivalente la possiamo chiamare o r equivalente oppure r a b allora applicando la legge di ohm a tutto fra i due punti a e b possiamo scrivere che via b uguale a r equivalente cioè la r equivalente di tutte queste tre per la i cioè questa corrente qui oppure anche possiamo chiamarla se non r equivalente r a b è sempre la stessa identica cosa allora è abbastanza intuitivo anche se ancora non abbiamo spiegato le leggi di kirchhoff è abbastanza intuitivo che la via b sarà la somma di queste tre tensioni quindi prendetela per buona ma ripeto è abbastanza intuitiva quindi senza aver spiegato altro si dovrebbe capire quindi la via b è la somma di v1 più v2 più v3 ma applicando ancora la legge di ohm a ciascuno di questi tre termini v uguale a r per i quindi v1 è uguale a r1 per i1 v2 è uguale a r2 per i2 così pure v3 è uguale a r3 per i3 bene siccome la corrente i1 è uguale alla corrente i1 è uguale alla i2 alla i3 tutta la possiamo chiamare i qua possiamo al posto di 1 scrivere i al posto di 2 scrivere i al posto di 3 scrivere i per cui alla fine raccogliendo la i possiamo scrivere che via b uguale r1 più r2 più r3 per i ma se guardiamo questa equazione qui questa equazione qui e questa equazione qui guardate via b via b i i ne consegue che questo r equivalente è uguale a queste alla somma di queste tre per cui r equivalente è uguale a r1 più r2 più r3 noi abbiamo visto tutto questo nel caso di tre resistenze in serie ma se ne avessimo avute due o quattro o dieci o venti nel caso generale la r equivalente è la somma di tutte la resistenza si misura in ohm questo il simbolo omega o omega forse più corretto no scusate noi in italia diciamo omega ma nel alfabeto greco è più corretto omega se le resistenze sono tutte uguali chiaramente la somma diventa semplice perché se io ho dieci resistenze da due ohm tutte in serie la resistenza equivalente chiaramente 2 per 10 cioè 20 all'interno di una serie noi abbiamo la possibilità di scambiare l'ordine delle resistenze all'interno della serie cioè a dire se abbiamo dieci resistenze possiamo scambiare la r2 con la r8 o la r5 con la r1 tutto questo è lescito senza alterare niente quindi in sostanza il risultato finale è questo qui che la se la resistenza equivalente di una serie è uguale alla somma di tutti i valori della serie adesso vediamo il caso di due resistenze in parallelo allora rappresentiamo al solito i due punti a e b le due resistenze sono in parallelo faccio una piccola parentesi nella definizione di resistenza in parallelo io ho detto che la definizione che due resistenze sono in parallelo se hanno la stessa tensione non mi piaceva molto in realtà come ho detto prima nell'altro filmato non è che sia sbagliata ma che hanno la stessa tensione è una conseguenza cioè le due resistenze sono in parallelo se hanno le due estremità questa e questa collegate fra di loro direttamente poi come conseguenza avranno la stessa tensione ma quella è una conseguenza allora scrivendo la legge di ohm a tutto il bipolo che fa capo ai morsetti a e b possiamo scrivere via b uguale a r a b per i per una legge che è la prima legge di kirchhoff ai nodi che ancora non abbiamo visto però è abbastanza facile intuire che qua la corrente i in questo nodo si divide in due e quindi la i è la somma di uno più i due è abbastanza intuitivo perché la corrente non come dire alla fine deve rimanere la stessa non può accumularsi o non può consumarsi quindi i sarà uguale ai uno più i due lo vedremo quando faremo le le leggi di kirchhoff allora applicando la legge di ohm alle due resistenze r1 r2 possiamo scrivere questa v1 uguale a r1 i1 e v2 uguale a r2 i2 facendo le formule inverse possiamo dire che i1 uguale a v1 su r1 e i2 uguale a v2 su r2 allora siccome abbiamo questa formula qui sostituendo alla i1 questo valore qui e sostituendo alla i2 questo valore qui possiamo ottenere questa formula che i uguale a v1 su r1 e più v2 su r2 ma siccome appunto le resistenze sono in parallelo e quindi v1 è uguale a v2 quindi uguale a vab possiamo qua sostituire al posto di v1 possiamo mettere vab e al posto di v2 possiamo mettere vab per cui la formula questa qui diventa questa qui sotto per cui io posso raccogliere vab e arrivare a questa formula qui i uguale a vab che moltiplica dentro le parentesi a 1 su r1 più 1 su r2 allora possiamo possiamo dalla formula numero 1 che è questa dalla forma formula numero 1 che è questa possiamo ricavare la formula numero 3 che è questa qui questa qui è la formula numero 3 bene confrontando le due formule possiamo scrivere in sostanza che i è uguale a vab fratto rab oppure i è uguale a vab per 1 su rab ma confrontando la 2 con la 3 cioè questa 2 con questa 3 ne ricaviamo che i è uguale a i vab uguale a vab allora sarà per forza che 1 su rab è uguale a 1 su r1 più 1 su r2 nel caso generale in cui avessimo tante resistenze in parallelo avremmo che 1 su rab uguale a 1 su r1 più 1 su r2 più 1 su r3 più 1 su r4 eccetera eccetera oppure se rovesciamo entrambi i membri di questa eguaglianza 1 su rab diventa rab e questo diventa 1 fratto tutto questo quindi la formula generale per il calcolo di tante resistenze in parallelo è questa anche se io preferisco usarla in questa forma qui siccome abbiamo la resistenza che le indichiamo con la lettera r ma in elettrotecnica si considera anche un'altra grandezza che la conduttanza che è esattamente uguale al reciproco molti dicono l'inverso non è proprio un termine appropriato però io lo lascio passare per buono ma il termine più corretto sarebbe il reciproco bene il reciproco l'inverso della resistenza viene indicato con la lettera g e si chiama conduttanza conduttanza e dimensionalmente la r è ohm la r è ohm la g è 1 fratto ohm cioè ohm alla meno uno uno fratto ohm cioè ohm alla meno uno che viene chiamato anche siemens da cui la lettera s allora la formula 4 trasformata con le conduttanze diventa g a b g a b uguale a g 1 più g 2 più g 3 e via di seguito quindi questa è la formula che vale nel caso generale per più resistenze in parallelo un caso molto comune è quello in cui abbiamo due sole resistenze in parallelo quando abbiamo due sole resistenze in parallelo la formula vista prima si può snellire si può trasformare una formula più semplice che è questa qui vediamo come ci si arriva praticamente per la formula generale 1 su rb uguale 1 su r1 più 1 su r2 facendo il minimo comune multiplo e facendo i calcoli viene a destra dell'uguaglianza r1 per r2 fratto r2 più r1 infatti r1 per r2 diviso r1 fa r2 r1 per r2 diviso r2 fa r1 quindi avete capito andando oltre sopra anziché scrivere r2 più r1 preferisco scrivere r1 più r2 che è la stessa cosa se adesso rovesciamo questi due termini abbiamo da una parte r a b dall'altra parte r1 per r2 fratto r1 più r2 cioè il prodotto delle due resistenze fratto la somma se le due resistenze sono uguali possiamo porre r1 uguale a r2 uguale a r questo è un caso particolare perché la formula generale comunque è questa se le due resistenze fossero uguali avremmo che r a b uguale al prodotto fra le due r per r fa r al quadrato fratto la somma delle due r più r fra due r possiamo tagliare l'esponente qui possiamo tagliare questa r qui il risultato sarà r mezzi ossia la metà praticamente nel caso di due resistenze uguali la resistenza equivalente è la metà delle due si potrebbe dimostrare ma non lo facciamo che se abbiamo tre resistenze uguali in parallelo e tutte tre sono di valore r allora r a b uguale a r terzi se ne abbiamo quattro tutte uguali r a b uguale a r quarti nel caso più generale se sono n con n numero qualsiasi e sono tutte uguali tutti uguali a r la r a b sarà r fratto n quindi facciamo un caso un esempio numerico 5 resistenze uguali in parallelo di valore r uguale a 100 la r a b equivalente sarà 100 diviso 5 perché 5 sono le resistenze quindi il risultato sarà 20 ohm adesso supponiamo di avere più di due resistenze in parallelo in questo caso in questo caso supponiamo 4 r equivalente o r a b per noi sarà la stessa cosa bene come possiamo fare applichiamo la formula generale 1 su r equivalente uguale a 1 su r 1 più 1 su r 2 più 1 su r 3 più 1 su r 4 dati i valori delle resistenze quindi viene 1 fratto 20 più 1 fratto 50 1 fratto 100 più 1 fratto 50 facendo questi calcoli anche con la calcolatrice viene fuori questa roba qui sommando il tutto otteniamo 0,1 sono ohm alla meno 1 perché stiamo parlando di 1 fratto r rovesciando questa equazione avremo r uguale a 1 diviso 0,1 per cui r equivalente uguale a 10 ohm come per le resistenze in serie anche per le resistenze in parallelo si può cambiare l'ordine delle resistenze all'interno di un parallelo questo a volte può aiutarci per semplificare i calcoli quindi è una cosa che si può fare senza alterare niente sempre in questo caso qui questo stesso identico esercizio avremmo potuto svolgere in un altro modo applicando sempre cioè più di una volta la formula delle resistenze di due resistenze in parallelo le resistenze sono 4 noi possiamo pensare di fare il parallelo della seconda e della quarta e il parallelo della prima e della terza perché seconda e quarta perché seconda e quarta hanno valore uguale avendo valore uguale la resistenza equivalente di queste due sarà la metà cioè 25 quindi r2 parallelo r4 sarà 25 ohm facciamo il parallelo di 1 e 3 il loro valore era 20 e 100 prodotto fratto somma 2000 fratto 120 viene 16,6667 ohm adesso abbiamo due resistenze possiamo riapplicare la formula del parallelo di due resistenze prodotto fratto somma otteniamo questo risultato e questo risultato il valore è esattamente 10 ohm 10 ohm come avevamo già calcolato nel caso precedente quindi dipende da come vi trovate meglio si può applicare la formula generale cioè questa qui o se le resistenze non sono tantissime quindi al massimo tre o quattro si può applicare la formula del parallelo di due resistenze più di una volta ok andiamo a chiudere questo video l'ultimo esempio che vi faccio è con tre resistenze abbiamo tre resistenze in parallelo cosa facciamo prima facciamo il parallelo fra r1 e r2 quindi prodotto fratto somma 1600 fratto 100 16 ohm quindi il parallelo r1 r2 è 16 ohm r3 era 40 ohm la riportiamo ancora qui 40 ohm bene facciamo il prodotto fratto la somma questo è il risultato 6 e 40 fratto 56 il risultato finale 11,43 ohm quindi a queste tre resistenze in parallelo io avrei potuto sostituire un'unica resistenza questa qui qua scriviamo a e b un'unica resistenza da 11,43 11,43 ohm con questo è tutto per questo filmato alla prossima ciao ciao